Buonasera a tutti, oggi siamo qui con Randazzo Inverti, due giocatori davvero fantastici della giovanile, state facendo molto bene, avete fatto veramente tantissimi gol, avete contribuito anche alla promozione di categoria della vostra squadra. Come vi sentite premiati quest'oggi? Siamo molto contenti, perché non ce l'aspettavamo di avere sempre squadre regionali, siamo una delle poche squadre che monta da verlo. Io sono molto contento perché ho raggiunto l'obiettivo dei gol che ho fatto. Sì, anch'io, per il gol che ho fatto, sia con il 2005 che con il 2004 i regionali, siamo molto contenti tutti e due. Una scarpa d'oro che corona un po' la vostra stagione, pensate di riuscire a fare lo stesso meglio o peggio per i prossimi anni? Io spero di fare lo stesso, anche di più, questo è un obiettivo che mi pongo e che vorrei raggiungere, poi non so, si vedrà. Io spero di almeno raggiungere l'obiettivo che ho raggiunto quest'anno, se non di migliorarlo, poi si vedrà, appunto. E rimarrete all'area calcio? Io sì, il prossimo anno sì. Penso di stesso. Mi rivedremo allora con la stessa maglia. Speriamo anche con lo stesso premio. Esatto, grazie ragazzi. Grazie a go.